Le Marche tornano oggi in zona gialla, questa mattina anche noi giornalisti siamo venuti al bar qui nei tavoli all'aperto a scoprire come i cittadini stanno riassaporando questo ritorno in zona gialla. Ore 10.30 a Pesaro, primo giorno in zona gialla, i tavolini sui marciapiedi e la tanto desiderata colazione al bar per molti che non hanno esitato a godersi dopo mesi, cappuccino e brioche all'aperto. Dopo tanto tempo chiusi a casa un po' di relax, a gustarsi il caffè ci sta, per me è una cosa fondamentale, proprio mi piace bere il caffè al bar quindi se posso a casa lo evito. Lo aspettavamo dalla zona precedente gialla ed è meraviglioso e speriamo che continui con comportamenti irresponsabili però da parte di tanti e speriamo che tutto persista. Noi venivamo sempre, tutte le mattine anche se fuori, però il fatto di sedersi e stare qui in tranquillità è meglio. La gioia dentro di riavere le persone sedute ai tavoli, questo ci dà nel cuore una grande gioia. L'unico problema per i bar è il fatto che il caffè non può essere servito al bancone. Siamo a sedere a tavola tranquillamente insomma, è un momento difficile del mondo, del paese quindi cerchiamo tutti insieme di avere fiducia in quello che succede domani anche se le parere sono molto contrastanti tra tutti, c'è stata grande confusione anche in questo momento quindi ripartiamo in silenzio, umiltà, buon lavoro, cortesia, questo è il messaggio. Il meteo non è dei migliori alle 12, inizia a scendere qualche goccia di pioggia ma fino a quell'ora i bar del centro storico lavorano, così anche i ristoranti seppur la ripartenza sia coincisa per alcuni con il giorno di chiusura. Ma la voglia di ripartire c'è e chi può farlo all'aperto si sta già attrezzando. Aspettiamo questo momento da un sacco di tempo, tanto che non ci ricordiamo neanche quando è stata l'ultima volta che abbiamo aperto. Non siamo contenti ovviamente col discorso del solo aperto perché abbiamo davanti una settimana di pioggia, freddo e vento e quindi ci faremo quattro risate quando si inizia a piovere mentre la gente è seduta nei tavoli magari qualcuno ci dirà cosa si può fare o se invece verranno subito a controllare se li abbiamo messi dentro o se sono tutti con l'ombrello sotto l'acqua e quindi ecco l'ennesima cosa che non ci convince. Però noi comunque ci siamo ma domani mattina finiamo tutto e abbiamo la piazzetta esterna per iniziare a lavorare fuori. Rimangono le regole di sempre, distanza di un metro tra i tavoli e uso obbligatorio della mascherina. Nei bar niente caffè servito al banco e al ristorante ci si sieda a tavola in sei, solo se si appartiene allo stesso nucleo familiare altrimenti resta la norma di far sedere solo quattro persone per tavolo se si tratta appunto di amici o non conviventi.